Ciascuno di noi, sono sicuro, desidera e impegnato a costruire bene la sua casa, la sua vita cristiana, il suo rapporto con Dio, un lavoro di ogni giorno, di ogni giorno, per tutta la vita. Ciascuno di noi è impegnato, certamente, ma dobbiamo essere intelligenti, ci dice il Vangelo, dobbiamo fare i conti, quali sono i mezzi, come dobbiamo prepararci, come dobbiamo operare per riuscire a costruire la nostra vita cristiana e il nostro rapporto con Dio. Oggi la parola di Dio ce ne indica uno che è molto interessante, che può aiutarci tutta la giornata, ricordarci che abbiamo sempre, costantemente, un debito da onorare nei confronti degli altri. Dice San Paolo, il debito dell'amore. Non dobbiamo aspettare a donarci, ad amare, a sostenere, ad andare incontro al nostro fratello perché lo merita. È proprio costituzionale dentro di noi il debito che abbiamo nei confronti dell'altro. Del resto è un po' la via di nostro Signore. Avevamo qualche merito noi perché il Signore, perché Dio pensasse a suo figlio in mezzo a noi, uomo, per la nostra salvezza. Non avevamo meriti. Ma l'amore richiama un debito. Allora, se oggi, durante la giornata, riusciamo a fare anche un qualche piccolo passo, ricordando che l'altro, quale che sia l'altro, chiunque, nei confronti dell'altro, ha un debito da onorare, un sorriso, un piacere, un aiuto. Noi costruiamo, mettiamo un altro mattone nella costruzione del nostro rapporto con Dio e della nostra vita cristiana. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare quei passi che desidera da noi oggi.